Avevano ottenuto più di un anno fa una carta di credito altrui fingendosi l'imprenditore vittima della truffa e hanno così potuto nel 2019 spendere quasi 7 mila euro tra prelievi e acquisti nei centri commerciali Lemura e il Castello di Ferrara, acquisti come una console, due costosi telefoni con lane e bracciali, ma ingenuamente hanno utilizzato una carta fedeltà in un negozio che ha aiutato gli inquirenti nell'identificarli. Arrestati gli autori della truffa in concorso, accusati per i reati di indebito, utilizzo e falsificazione di carte di pagamento e anche per sostituzione di persona, due uomini e una donna di origine napoletana tra i 24 e 31 anni. Il più anziano, residente nel Ferrarese, è già ristretto dall'anno scorso nella casa circondariale di Via Arginone per altri reati, 80 ai precedenti penali simili, tra cui quello che lo ha portato in carcere quando simulò la compravendita di un auto incassando con metodi fraudolenti 18.500 euro. La cognata del 31enne, anche lei residente nel Ferrarese, ora ai domiciliari, mentre un loro amico di 26 anni è stato raggiunto dalla notifica dell'arresto nella sua abitazione partenopea. Una nuova tipologia di truffe, l'hanno definita i carabinieri di Ferrara che hanno condotto le lunghe indagini. Il trio aveva bloccato la carta di credito della vittima della truffa, comunicando al gestore del servizio che la tessera si era smagnetizzata. Con un documento falso sono riusciti a ritirare la nuova carta di credito e l'imprenditore non si è accorto dell'avviso inviato dal gestore del servizio. Imprenditore che si è accorto che qualcosa non andava solo quando ha visto il conto prosciugarsi. I carabinieri sono così riusciti a bloccare la truffa in atto prima che se ne perpetrassero altre due nei confronti di altrettante vittime. Truffe che destano sempre molto allarme sociale, soprattutto tra la popolazione anziana che caratterizza il ferrarese, un fenomeno molto presente nel territorio, aggiungono i carabinieri. Nell'ultimo anno e mezzo, tra truffe e frodi informatiche, più di 800 le denunce ai carabinieri nel ferrarese. Un truffatore su otto è stato riconosciuto e denunciato. Solo la scorsa settimana i militari hanno arrestato due truffatori nel territorio estense che avevano venduto per ben 300 euro un rilevatore di fumo del valore reale di 20 euro a un'anziana ultraottantenne.